Ti ha mandato a quel paese, vannacci? Io no, non l'ho mandato a quel paese, assolutamente, anzi ho detto che ha diritto a candidarsi e che alcune cose che ha scritto sicuramente saranno anche giuste, altre mi piacciono meno, ma come è normale. Sui disabili cosa pensa? Fa bene così, grazie.